Bravissimo! Come sento? E' bene! E' bene! Tu canta? Non sopria cantare. Faccio tu cantare? Traga. Cosa canta? Cosa canti? Un brano di Gianni Celeste? Cosa canti? Gianni Vezos. Allora, questo è un brano che dedico alla zianna e allo zio Raffaele. Prego di mettervi al centro per ballare. E chi vuole può fare un cerchio, perché questo è un brano molto antico, ma molto moderno, perché è molto bello. No, no, no. Aspettate. La sua vita è un brano, perché è un brano che non è un brano. La sua vita è un brano, perché è un brano che non è un brano. La sua vita è un brano, perché è un brano che non è un brano che non è un brano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è brava, molto di più. Facciamo forte applauso, forte applauso, grazie. Bravissima.